Dopo la semina, il raccolto. All'Unione Calcio Biceglie si lavora in prospettiva sicuri che i risultati arriveranno. Anzi, è già maturo il tempo per arricchire una bacheca affollata nonostante la giovane età della società presieduta da Enzo Pedone. Giovane età come quella dei ragazzi, delle categorie giovanissimi ed esordienti, capaci di sbaragliare il campo all'ottava edizione della Roma International Cup. Primi con un percorso netto in cinque partite, amplendi vittorie per i giovanissimi, quattro successi e un pareggio per gli esordienti, nel torneo che vedeva ai nastri di partenza 95 squadre in rappresentanza di 13 regioni italiane e tre paesi europei come Svizzera, Belgio e Francia. Per l'Unione Calcio Biceglie era già motivo d'orgoglio essere a Roma per confrontarsi con il meglio del calcio giovanile, una grande opportunità colta a pieno con i successi sul campo. È stata un'opportunità bellissima, abbiamo sfruttato al massimo, portando tre categorie e vincendone con due. È stata davvero un'emozione grandissima, soprattutto per i ragazzi che probabilmente non si aspettavano nemmeno un risultato del genere. L'anno scorso abbiamo partecipato a un altro torneo internazionale, ma i risultati sono stati diversi. Quest'anno vincendo cinque partite con la categoria giovanissimi e quattro con un pareggio con la categoria esordienti, veramente abbiamo fatto qualcosa di straordinario. La squadra dei 2000-2001 si è comportata bene ugualmente, non riuscendo a passare il turno, ma siamo contenti anche per loro. Vittorie che non sono figlie della casualità perché la dirigenza dell'Unione Calcio Biceglie, oltre al presidente Enzo Pedone vanno ricordati il direttore generale Leonardo Pedone, il vicepresidente Rigante, e i componenti del direttivo Pellegrini e Carmine Rumma, sul settore giovanile appuntato sin dalla nascita. Progetto coltivato con la collaborazione della società Green Biceglie e che i suoi frutti li ha regalati prima con il successo nel campionato provinciale giovanissimi e adesso con il doppio sigillo nella Roma International Cup, che garantisce il presidente Enzo Pedone e solo il punto di partenza per i giovani dell'Unione Calcio. L'augurio è quello comunque di continuare e questo deve essere un punto di partenza, non punto di arrivo, quindi i ragazzi devono imparare a dover continuare sempre su questa strada, sul sacrificio, sul lavoro e sulla volontà.